Basta operazione dei carabinieri a Fossombrone nella giornata di sabato su disposizione del comando provinciale di Pesaro per la prevenzione e la repressione del degrado nelle aree urbane recuperati durante l'operazione durata tutto il pomeriggio, la serata e fino a notte fonda oltre un etto di stupefacenti tra cocaina, marijuana ed hashish. 16 carabinieri ed un'unità cinofina antidroga del nucleo di Pesaro hanno setacciato palmo a palmo il parco Carloni, i giardinetti di piazza Dante e Togliatti ed il centralissimo corso Garibaldi, la strada dello shopping ed il dedalo di stradine che si diramano luoghi ideali nottetempo per lo spaccio indisturbato. Nelle maglie dell'operazione sono finiti tre spacciatori al minuto, un carpentiere di 57 anni di Fossombrone arrestato per spaccio e detenzione di marijuana nella cui abitazione in pieno centro durante la perquisizione dei militari l'infallibile fiuto di Iago, un pastore tedesco, ha scovato il tesoretto dell'uomo anche se abilmente nascosto, un etto di marijuana ed un grammo di cocaina custoditi sotto vuoto. Lungo corso Garibaldi i carabinieri sono incappati in una loro vecchia conoscenza, un albanese di 35 anni detto Toni che aveva appena venduto ad un residente una dose di cocaina ed addosso ne è stata trovata un'altra e la somma anche di 260 euro, ritenuti probabilmente il guadagno dell'azione di spaccio. Il terzo pizzicato dai militari dell'arma è stato un minorenne trovato al Parco Carloni in possesso di 5 grammi di marijuana ed uno di hashish, un bilancino di precisione e diverse banconote da 10 euro provendo probabilmente dell'attività di spaccio. Il carpentiere 57enne dopo aver passato il fine settimana agli arresti domiciliari questa mattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Urbino che oltre a convalidarne l'arresto ha applicato come misura a cautelare l'obbligo di presentazione ai carabinieri di Fossombrone tre volte alla settimana mentre al minore è stato ritirato il patentino e sequestrato il furgoncino Ape e denunciato alla procura dei minori di Ancona e l'albanese Toni denunciato alla procura di Urbino.